Stavano monitorando le auto di grossa cilindrata con targa estera che circolano sul nostro territorio nell'ambito del decreto sicurezza per evitare immatricolazioni fittizie, ma si sono imbattuti in un carico di droga. I finanzieri del comando provinciale di Firenze hanno arrestato nei giorni scorsi per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio due stranieri, un 35enne nato in Albania e residente ad Astia e una 25enne nata in Germania ma di nazionalità greca. A bordo di un SUV con targa olandese trasportavano due chili di cocaina. I finanzieri si sono insospettiti quando i due, mostrandosi nervosi, non sono riusciti a fornire una spiegazione chiara su dove stessero andando e perché. Un controllo all'interno dell'auto con l'aiuto di un'unità cinofila ha permesso poi di scoprire, sopra il portellone posteriore, all'interno del tettuccio dell'autoveicolo, un profondo doppio fondo che poteva essere aperto automaticamente dall'interno, nell'intercapedine c'erano due panetti di cocaina purissima che avrebbero permesso il confezionamento di oltre 15.000 dosi per un corrispondente valore sul mercato dello spaccio di circa 600.000 euro.